Da un progetto sinergico avanzato che caratterizza Protec nasce Pressotec. Pressotec è una tecnologia di presso massaggio, supportata dalla cromoterapia integrata presente in tutte le tecnologie. Per una facile gestione dei protocolli, il display soft touch 10 pollici permette di selezionare il programma indicato per il cliente. Pressotec svolge la sua azione attraverso un massaggio meccanico che si effettua per mezzo di speciali camere d'aria, le quali, grazie alla pressione esercitata da getti d'aria di varia intensità, si gonfieranno e sgonfieranno per un determinato intervallo di tempo, producendo un'onda peristaltica. Attraverso pressioni dosate ai tessuti facilita il drenaggio dei liquidi, apportando benefici sia alla circolazione sanguigna che linfatica. I suoi effetti antinfiammatori saranno evidenti. Si noterà un miglioramento nel tono della pelle, che apparirà più ossigenata e dal colorito più sano. I suoi benefici Riattivazione della microcircolazione locale riducendo la ritenzione idrica Azione defaticante Rivitalizzazione dei tessuti mediante effetto ossigenante Progressivo miglioramento del tono tessutale Riduzione degli inestetismi della cellulite Riduzione in centimetri Riduzione in centimetri Riduzione in centimetri Riduzione in centimetri Ringorizzazione delle possesse